Un'iniziativa importante che conferma l'importanza della cultura a Soveria Mannelli. E' l'ennesima riprova che questa amministrazione ha sempre tenuto agli eventi culturali e intitolando oggi il centro di aggregazione giovanile di Soveria Mannelli a Gerardo Marotta ha dimostrato che il pensiero e il pensiero filosofico e storico e giuridico di Gerardo Marotta potesse influenzare in maniera positiva i nostri giovani. E' l'orientamento dei ragazzi del nostro territorio. Sono stati con noi infatti i ragazzi del liceo di decollatura dell'industria di Soveria Mannelli così come il professore Caligiuri e il professore Pullerà. Come sindaco devo dire che sono contento, sono lusingato di ospitare nel nostro comune un'intestazione a Gerardo Marotta che è stato uno dei più grandi pensatori del meridione, che ha rappresentato il meridione in Italia e nel mondo. Come sono stati con noi.